è il Morris che diventa più insopra questo è un apposimento per i campi e ricordiamo perché secondo loro che vi offrono l'aperitivo tra Bocco tra Bocco e l'obbligo di Maracocinco per l'Italia a Scandolana, Ramana a provincia di Fremona poi la settimana di servizio che ha detto in Giastuca di Martina a Bocco a Bocco, a Bocco, a Bocco a Bocco, 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 a Bocco, a Bocco poi superiore tra vitti forno alimentari e frutta di Bussona studiogrossi di Bussona che bello, è un pombo di Vecchio sono sotto il Votero, una vita di un nuovo prezzo e poi direi, gli altri venneranno tutti già salutati gli altri venneranno tutti che dobbiamo aggiungere sul prezzo del risposto, siamo veramente tanti grazie di cuore, perché? Perché proprio grazie al sicuro possibile questa manifestazione che hanno suppogato attraverso la loro presenza questo grandissimo evento, io ricordo ancora una volta che l'ingresso presso il circuito è esclusivamente riservato chiaramente per motivi di sicurezza agli iscritti muniti di bracciale, quindi io ricordo ancora una volta l'ingresso presso il circuito è esclusivamente riservato per motivi di sicurezza agli iscritti muniti di bracciale sono le 11.34, 10 minuti circa e ci sarà alle 11.45 una commemorazione al lusamento dedicato ad Angelo Bergamonti appuntamento sicuramente molto importante vi ricordo anche la cucina, grande pranzo con Marubain, mezzo e penna alla matriciana e gnocchi alla gorgondola secondi, arrosto con spinaci, bollito misto, gallina, lingua, stinco con patate grigliata, salsiccia con polenta, patatine con torni, giardiniera, fagioli, cipolline piatti di formaggio, piatti di salumi, un pezzo di cononda e poi chiaramente acqua, caffè, vino, camparia, pazze caffè insomma quante meraviglie fate voi di buono poi andremo ad assaggiare queste predibattette della cucina locale queste predibattette di arte e culinarie che sicuramente daranno più al nostro palazzo in una giornata dove il discurso protagonista è da un lato allo sport ma dove non vogliamo trascolare tanti altri elementi che devono rendere grande questa giornata di feste insieme qui a Cussola come il cibo questa sera ci sarà a Perino, questo ve lo ricordo e vi ricordo ancora una volta, non mi stancherò mai di dirvelo grazie al mio segretario personale che c'è l'ingresso presso il circuito di esclusione che ha ricevuto per motivi di sicurezza agli iscritti muniti di bracciale quindi mi raccomando ok? 11.36 e ricordiamo ancora la comemorazione